Quest'anno per la terza edizione abbiamo presentato il calendario del 2024, un calendario che si caratterizza da una serie di fotografie legate ai mestieri, i mestieri delle imprese, i mestieri delle attività commerciali che raccontano ciò che c'è di fisico, di tramandato, di fatto col sudore, con l'esperienza, fatto con l'impegno e con la fatica, che è quello che fanno quotidianamente migliaia di attività commerciali nella nostra provincia, nei centri storici, nelle periferie, nei quartieri, nei borghi più piccoli e nei borghi più grandi. Quindi l'abbiamo dedicato a loro, all'importanza che hanno anche come ruolo sociale nei nostri territori per la loro importanza di servizio al cittadino. E l'appello sotto il periodo natalizio è quello di venire a vivere il Natale all'interno dei centri storici e delle periferie che più che mai quest'anno, dopo tre anni di pandemia, troveranno centri e periferie animate con una collaborazione importante pubblico e private, grazie anche ai distratti del commercio, le illuminazioni natalizie, gli eventi natalizi saranno tanti. Quindi speriamo che l'esperienza natalizia nel nostro mondo del commercio sia piacevole per tutti. Vi aspettiamo e vi auguriamo ottime feste.